Quello di lasciare queste scritte è una cosa bruttissima e non ha senso una cosa così. Per me è veramente triste vedere questi biglietti. È stato un risveglio shock per il quartiere di Saione. Questa mattina infatti alle prime luci dell'alba alcuni residenti hanno trovato diverse decine di volantini razzisti in via Piave. Solamente tre parole scritte a mano con un pennarello blu ma che contengono orribili offese razziste nei confronti delle persone di colore che vivono o frequentano quella strada, indubbiamente una delle più multietniche dell'intero quartiere. Fa molto male questo qui, non va bene questo scritto qui, non va bene per niente. Speravo che un giorno si cambia tutto, io penso così. In passato si era già verificato un episodio simile sempre in via Piave dove nel 2017 si è accesa una maxirissa a colpi di bottiglie e bastoni tra due bande rivali probabilmente per il controllo del mercato della droga nella zona. Il disagio c'è e il problema che io avverto maggiormente vivendoci e lavorandoci è più un discorso di spaccio e tossicodipendenza piuttosto che un discorso di razzismo in sé per sé anche perché poi si sa che chi consuma queste sostanze generalmente non è stracomunitario. Bersaglio di questi nuovi messaggi di odio sembra essere ancora una volta il locale multietnico diventato punto di ritrovo della comunità africana, un brutto episodio che rischia di riaccendere le tensioni razziali anche se tra i residenti si respira unicamente indignazione e amarezza. Mi sembra un gesto veramente estremo e violento soprattutto in un contesto di un quartiere di questo tipo. Sul posto questa mattina sono intervenuti polizia e municipale che ora stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili del gesto mentre gli operatori ecologici di Sei Toscana hanno già provveduto a ripulire la strada.